Il Presidente, finalmente si vola e si va a Parigi? Sì, è un appuntamento importante quello di oggi, perché finalmente si va a Parigi e soprattutto da Parigi si può volare in tutto il mondo, quindi per Ancona è sicuramente una data, per Ancona e per l'aeroporto delle Marche è una data da segnare con rosso. Questo significa certamente portare la nostra regione, il nostro capoluogo ad essere presente su dei mercati, su dei circuiti, dove fino ad oggi eravamo non solo assenti, quindi c'era precluso tutta una serie di opportunità. Oggi queste opportunità tornano ad essere tangibili e quindi dobbiamo essere bravi noi a costruire insieme all'Agenzia, con tutte quelle che possono essere le energie che possiamo mettere in campo, le opportunità che poi dovrebbero automaticamente tornare sul territorio, concretamente con la crescita della nostra economia turistica, l'internazionalizzazione, la manufattura, i prodotti anogastronomici, tutte quelle che sono le opportunità che poi possono nascere e affermarsi. E su Londra raddoppiate? Londra raddoppiamo, Londra andiamo a connettere altresì l'aeroporto di Gatwick con EasyJet, che è un ritorno, un gradito ritorno dopo anni, oltre ovviamente al volo di Ryanair che è confermato su Stansted. Il combinato risposto tra queste rotte nuove internazionali che abbiamo lanciato in questi giorni, oltre ai nuovi voli di continuità ideoreali su Roma, Napoli e Milano, ci permetterà di fare un salto fondamentale per quanto riguarda i flussi di traffico, sia in coming che out going, e che quindi darà una spinta ulteriore per poi raggiungere quelli che sono gli obiettivi di piano di medio e lungo termine che ci siamo previsti. Anche con la nuova agenzia del turismo stiamo programmando delle visite, delle attività anche internazionali che ci permetterà poi di comunicare sia i nuovi voli e congiuntamente con quello che è il nuovo riposizionamento complessivo del brand market del mondo.